Ci deve essere anche un passo avanti delle comunità ebraiche, cioè noi dobbiamo renderci conto che dare un patrocinio come se nulla fosse, cioè che Israele e Palestina siano in pace, sarebbe stato onestamente poco onesto. Noi crediamo che il patrocinio non possa non essere accompagnato da azioni forti, tipo ad esempio una presa di posizione della comunità ebraica italiana che si dissociino ad esempio delle azioni criminali di guerra che l'ONU ha associato non solo a Damas ma anche ad Israele e ad esempio delle azioni finalizzate al dialogo alla pace, altrimenti noi anziché costruire la pace continueremo a mantenere le condizioni per una guerra. Alberto Felice Detoni ne ha un po' per tutti e risponde alle tante critiche piovute da parte della politica sulla decisione di non concedere il patrocinio della gara Italia-Israele che si giocherà il prossimo 14 ottobre al Blue Energy Stadium di Udine compresa la presidentessa delle comunità ebraiche italiane, chiarendo come i concetti di sport e politica siano intrecciati. Sostenere che lo sport e la politica sono separati secondo me è un'affermazione che trova il tempo che trova perché in realtà dal boicottaggio degli Olimpiadi ai tempi degli Stati Uniti e Russia fino agli ultimi giorni noi vediamo sempre che purtroppo sono intrecciate per cui far finta che non lo siano secondo me non è onesto sul piano intellettuale. Forte la presa di posizione della consigliera comunale Gatta che si è profondamente dissociata nonostante l'appartenenza proprio alla lista Detoni. Dentro una maggioranza grande ci sono idee diverse, ognuno si prende la propria responsabilità. Noi crediamo che lo sport e la politica siano interessati e come? E il fatto che ad esempio la politica in questo caso del Comune di Udine non dia il patrocinio è come ha un impatto, come ha un impatto se lo dà, quindi far finta che non sia vero è onestamente contraddittorio. Si toglie anche un ultimo sassolino dalla scarpa, il sindaco ribadendo come il Comune non fosse stato preventivamente coinvolto. Ma il Comune non è stato coinvolto per niente nell'organizzazione della partita, quindi noi abbiamo ricevuto soltanto una comunicazione di richieste di patrocinio, noi abbiamo chiesto di poter rimandare nel tempo in attesa di una situazione quantomeno di cessare il fuoco e di liberazione degli ostaggi, così non è stato e quindi per il momento la decisione è questa. Se ci saranno dei cambiamenti siamo i primi a essere disponibili a rivedere la posizione.